Per conto del clan Mallardo imponevano le estorsioni agli imprenditori dell'Interland Nord di Napoli per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività lavorativa. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Giuliano al termine di indagini coordinate dalla DDA partenopea. Il GIP del Tribunale di Napoli contesta a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Giovanni Di Cicco, 62 anni, di Vincenzo Strino che a breve compirà 57 anni, di Sabatino Cimmino, 44 anni e di Antonio Russo, 55. Le estorsioni sarebbero state tentate il 3 e il 26 settembre 2018 ai danni di imprese che stavano lavorando in località Varcaturo di Giuliano in Campania in provincia di Napoli. Gli imprenditori locali vittime di estorsioni sono stati costretti a pagare per poter continuare a svolgere in sicurezza la loro attività lavorativa. Questo intervento arriva in seguito a un'operazione simile del 18 settembre che aveva portato all'arresto di altre due persone legate allo stesso clan. SOS Impresa, impegnata da anni nella lotta contro il racket e l'usura, esprime il suo profondo sostegno e apprezzamento per l'azione delle forze dell'ordine e della procura della Repubblica diretta dal dottor Nicola Gratteri. Questi successi rappresentano un segnale chiaro e potente della presenza dello Stato nella difesa della legalità e nella protezione dei cittadini onesti da minacce e soprusi, si evidenzia ancora.